Omicidio nelle Corleonese, ucciso Nicolò Romeo, forse si è rotta una tregua. Quando il cadavere è stato scoperto si è ipotizzato che si trattasse di un incidente stradale, l'automobile è schiantata e lui l'è morto profondamente ferito all'avvolto, distesso sullo sterzo. Poi invece si è capito, Nicolò Romeo, 72 anni, è stato ucciso. I killer gli hanno sparato, forse con un fucile, e lo hanno colpito in faccia. L'automobile di Romeo è schizzata fuori strada, prima lo schianto contro un palo della Telecom, poi il muro di una casa rurale. Il delitto lungo la strada provinciale tra Corleone e Monreale, nel borgo Schiro. Una telefonata anonima, l'allarme, i carabinieri, la procura di Palermo interroga i familiari. Un fratello della vittima, Pietro Romeo, imprenditore, sarebbe stato vittima della lupara bianca nelle 97. Il nome di un altro fratello di Nicolò Romeo, Salvatore, è scritto in uno dei pizzini scoperti nel covo di Bernardo Provenzano, in Contrada Montagna dei Cavalli, a Corleone. Romeo, tramite le boss Nino Rotolo, avrebbe invocato al capo di Cosa Nostra uno sconto sull'epizzo. I fratelli Romeo, originari di Altofonte, sono titolari di un noto mangimificio. La sede centrale è a Palermo, ed uno stabilimento è in attività nella stessa zona dove Nicolò Romeo è stato ucciso. Le parole degli inquirenti, un delitto molto inquietante e poi ancora si è rotta una tregua. Sì, infatti, gli ultimi omicidi di Cosa Nostra nella zona, il feudo dei Corleonesi, risalgono ad oltre 15 anni addietro. Nelle 95 Giovanni Riina, figlio primo genito del capo dei capi, uccise Giuseppe Giovanna Giammona ed il marito di lei, Francesco Saporito. Poi, nel 97 muore Giuseppe Lafranca e nel 98 è assassinato Emanuele Di Maggio, fratello del pentito Balduccio. Guerre di mafia, morti ammazzati, indagini e pentiti, le faide della Valle dell'Oiato, lo scontro tra Mimmo Racuglia, il veterinario e Balduccio Di Maggio, il pentito della cattura di Riina con le armi in tasca. Il fratello di Nicolò Romeo, ucciso lunedì scorso, Salvatore Romeo, 70 anni, lo stesso che ha chiesto lo sconto sull'epizzo a Provenzano tramite Nino Rotolo, ha raccontato che il fratello Pietro è stato affiliato alla cosca di Altofonte. Poi, quando si è scatenata la guerra tra Racuglia e Di Maggio, lui, Pietro Romeo, si è ritirato, non si è schierato con nessuno dei due. Mimmo Racuglia ha interpretato male il comportamento di Romeo e ha pensato che lui, Romeo, appoggiasse il gruppo di Di Maggio. Pietro Romeo è stato vittima della lupara bianca nel 1997. La moglie di Romeo ha ricordato che quando il marito è uscito l'ultima volta da casa, è stato diretto ad un appuntamento con Mimmo Racuglia per gli auguri di Pasqua. Adesso, dopo l'arresto di Racuglia, chi comanda nell'emmandamento di San Giuseppe Iato? Secondo il repentito Gaspare Pulizzi, già fedelissimo di Salvatore Lopiccolo, il loro referente a San Giuseppe Iato è Giuseppe Cagliola. Il 10 giugno del 2007 è stato ucciso Salvatore Vassallo e sarebbe stato un delitto ordito dal clan Lopiccolo contro lo strapotere di Mimmo Racuglia. Gaspare Pulizzi ricorda che dell'omicidio Vassallo si è discusso nel covo di Giardinello a Carini. Racuglia e Lopiccolo sono in carcere e forse altri sono in movimento perché si capisca chi comanda.